a chiede voglio bene manuele dovrebbe fare una piccola ricerca ma piccola piccoletta maestri giusto tu eri e si chiamano chi ti rilasciretti e guardi borsellino e falcone è giusto per fargli capire chi erano perché rimane a commo ma con a commo cazzo la bucchina ma ha una c'è chi ti ha detto a commo ma ora azione commo ma ora azione le rimuorte chi è morta